Ben trovati in studio, continuiamo ad occuparci delle blitz effettuato dai carabinieri venerdì scorso alle comune e alla sovrintendenza di Ragusa. Le indagini infatti continuano per fare luce sulla vicenda che vedrebbe indagate quattro persone in servizio. Indagini serrate da parte dei carabinieri di Ragusa dopo il blitz di venerdì scorso alla sovrintendenza ai beni culturali e presso il settore a sette uso del territorio del comune di Ragusa durante il quale sono stati sequestrati atti e documenti relativi ad alcune concessioni edificatorie in zone protette dal piano paesistico. L'indagine sarebbe partita dalla denuncia degli ambientalisti su un presunto reato di abuso d'ufficio a carico di quattro persone che risultano al momento le uniche indagate. Il materiale sequestrato venerdì va ad aggiungersi alla copiosa documentazione fotografica e al rapporto di una cinquantina di cartelle che i carabinieri hanno consegnato al procuratore della Repubblica Carmelo Petralia. Nel mirino dei militari altre situazioni sospette che riguardano anomalie presenti sul territorio ebleo. Per questi motivi attraverso un particolare modus operandi agisce in seno al comando provinciale dei carabinieri di Ragusa su input dell'autorità giudiziaria e della cittadinanza in sinergia con le stazioni carabinieri dislocate nella provincia e di stretta intesa col nucleo operativo ecologico di Catania una vera e propria task force di militari. L'obiettivo è contrastare i reati ambientali e controllare le zone sottoposte a vincolo. I carabinieri continuano ad accogliere le istanze dei cittadini che possono effettuare segnalazioni direttamente al numero 112. Continua inoltre l'azione di monitoraggio con l'ausilio dell'elicottero del dodicesimo nucleo elicotteri dei carabinieri di Catania attraverso il quale vengono effettuate riprese anche notturne delle zone da monitorare. E adesso torniamo ad occuparci della protesta dei lavoratori della discarica di cava dei modicani a Ragusa. Venerdì, come ricorderete, gli unici dipendenti erano entrati in stato di agitazione perché lamentavano ritardo nei pagamenti degli stipendi. Stanchi di questa situazione, i lavoratori avevano deciso di interrompere il servizio per due ore per ogni turno per tenere un'assemblea sindacale. Già sabato sul caso era intervenuto Giancarlo Migliorisi, presidente di Ato Ambiente Ragusa, che aveva proposto un incontro con il prefetto per chiarire una volta per tutte la situazione. Dalle 10 di questa mattina i dipendenti hanno ripreso le normali attività lavorative, ma la situazione rimane sospesa. Sentiamo. Stamattina abbiamo appreso che è stato bonificato lo stipendio ai lavoratori o dato mandato di riprendere la normale attività lavorativa, ha dichiarato il segretario provinciale della funzione pubblica della CGL Giovanni Lattuca, in merito alla protesta che gli undici dipendenti della discarica di cava dei modicani a Ragusa hanno iniziato venerdì scorso. La motivazione alla base della protesta è il ritardo nel pagamento degli stipendi, che a detta dei lavoratori si ripete ogni mese. La responsabilità sarebbe sempre, secondo i lavoratori, di Ato Ambiente Ragusa, che non rispetterebbe i tempi del versamento. Gian Carlo Migliorisi, presidente Ato, ha risposto che i pagamenti per l'anno 2011 e per questi mesi del 2012 sono avvenuti rispettando l'escadenza o al massimo con pochi giorni di ritardo. La ditta Costanzo, ha continuato Migliorisi, mi ha riferito di sentirsi minacciata da questi lavoratori. Su queste parole ora è intervenuto il segretario Lattuca, che dichiara Condanno il comportamento della ditta Costanzo perché non ci ha fatto sapere nulla dopo la procedura formale avviata dai lavoratori e dalla CGL da venerdì. Sono i lavoratori, continua Lattuca, che sono stati minacciati dalla ditta Costanzo di essere sospesi se l'Ato non avesse effettuato i mandati di pagamento e non il contrario. Siamo disposti, ha concluso il segretario, ad un incontro in prefettura, ma anticipo sindora che se dal prossimo mese si dovessero verificare gli stessi problemi, dal 16 ricominceremo le proteste. Ci occupiamo adesso dell'aeroporto di Comiso. Sei mesi all'apertura dello scalo dopo la firma del protocollo tra regione e Stato. Ma dopo i tanti proclami e sopralluoghi di questi anni c'è da incrociare le dita senza dimenticare che sullo scalo incombe l'incubo Muos. L'aeroporto di Comiso, pronto al decollo fra sei mesi, delle ultime notizie sembrerebbe così. Proprio in questi giorni il presidente della SOA con la società di gestione dello scalo di Bernardo ha fatto un cronoprogramma dei vari step che mancano per l'avvio dell'aeroporto. Meno di 180 giorni dopo la firma del protocollo tra regione e Stato allo start-up. Dunque siamo oramai agli sgoccioli o almeno sembra. Eppure in questi anni l'apertura sembrava sempre ad un passo. Le inaugurazioni sopra luoghi dei ministri, countdown appesi nei muri della città di Comiso. Visti i risultati ci sarebbe da incrociare le dita e sperare che questa sia la volta buona. Di sicuro i cittadini comisani della provincia eblea non dimenticheranno mai le visite di Massimo D'Alema nel lontano 2007 di inaugurare la pista e del ministro Matteoli che aveva annunciato in pompa magna l'apertura entro la scorsa estate. Ed intanto, mentre la struttura è ormai pronta da anni, non si sono visti i protagonisti di un aeroporto, ovvero gli aerei e i fruitori di questa infrastruttura, ovvero i passeggeri. Ma per non farci mancare niente, in questi mesi la pista dello scalo è stata utilizzata per fare i giri con le Ferrari mentre alcune villette dell'area sono state utilizzate da personaggi legati alla criminalità. Insomma, una vicenda pirandelliana che comunque potrebbe avere il suo epilogo con l'attivazione del sistema radar e delle antenne del MUOS che fra qualche mese potrebbero essere attivate nella vicina Niscemi. Antenne che, vista l'elevata potenza, potrebbero creare problemi alla circolazione aerea entrando in conflitto con i sistemi di navigazione dei velivoli. Ma questo, a quanto pare, visto il silenzio assordando sulla vicenda, non preoccupa i vertici di Soaco e l'amministrazione Comusana. Un fatto allarmante si è verificato nei giorni scorsi a danno dell'organizzazione sindacale UGL di Ragusa. Lettere minatorie sono state infatti inviate ad alcuni iscritti allo stesso sindacato e servizio. Lettere minatorie anonime dal contenuto offensivo e calugnoso sono state indirizzate all'UGL di Ragusa. Le minacce sono state rivolte in particolare a due rappresentanti RSU eletti alla provincia. Le lettere sono state recapitate da alcuni dipendenti dell'ente di Viale del Fante, iscritti e simpatizzanti del sindacato. Si tratta per lo più di lavoratori che, in occasione delle ultime consultazioni per il rinnovo della RSU, si sono candidati proprio nella lista dell'UGL. Immediata la reazione da parte dei vertici sindacali della provincia eblea, che hanno condannato all'unanimità l'atto intimidatorio ed espresso la loro solidarietà a tutti i dipendenti oggetto di un atto tanto vile. Daniele Gentile, componente Comitato Nazionale UGL Autonomie, ha commentato Abbiamo chiesto ai nostri legali di esaminare la documentazione in questione allo scopo di inoltrare in tempi brevi una ferma denuncia all'autorità giudiziaria competente affinché venga avviata una opportuna attività di indagine tesa ad individuare e a punire severamente emittenti delle infamanti note. Incontro questa mattina alla Scuola Filippo Traina Vittoria. Dirigenti scolastici e Comitato degli Assistenti Amministrativi si sono confrontati dopo il recepimento da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del Decreto MIUR sulla mobilità professionale del personale ATA. Sentiamo. Continua la mobilitazione dopo l'emanazione da parte del MIUR del Decreto 1801 dello scorso 9 marzo, che regola la mobilità del personale ATA. L'Ufficio Scolastico Regionale, anziché attuare la mobilità ad inizio di anno scolastico, la sta avviando ora. Dirigenti scolastici e personale ATA si sono incontrati quest'oggi alla Scuola Filippo Traina a Vittoria per discutere di questo decreto che, anche secondo i dirigenti scolastici di Vittoria ed Acate, porterà disagi al lavoro svolto a scuola. Tutti siamo d'accordo, propensi a far passare queste persone che hanno il diritto dell'avanzamento di carriera, quindi da collaboratori scolastici passerebbero a assistenza amministrativa. Quindi c'è questo diritto riconosciuto da tutti e tutti siamo propensi a farli passare. Ma mi chiedo, chi difende la scuola, le attività della scuola? A quanto pare a nessuno importa, perché se arrivato a marzo noi cambiamo in alcune scuole il 66%, quindi 2 su 3, come fanno queste persone ad innestarsi nella nuova realtà con tutte le attività che giornalmente ci sono? Noi chiediamo, come dirigenti, come garanti dell'utenza, di spostare il tutto a settembre. Gli assistenti amministrativi si sono uniti in un comitato che, appoggiato dai dirigenti scolastici, chiede di risolvere la situazione al più presto. Questo avanzamento di carriera, da che doveva essere fatto nel mese di settembre, per problemi, non so, amministrativi, dell'ufficio scolastico regionale, lo si sta attuando solo ora, cioè entro fine marzo. Questo qua porterà notevoli problemi sia dal punto di vista della contabilità amministrativa, ma anche di supporto alla diattia che gli uffici di segreteria danno agli insegnanti, perché, ripeto, questo è un periodo abbastanza caldo per noi, come lavorativamente parlando. Quello che chiediamo che cos'è? È che, visto che c'è stato questo problema che non è imputabile a noi, ma è stato un problema dell'ufficio scolastico regionale, che il tutto si possa rimandare a settembre, oppure che trovino una soluzione che dia continuità al lavoro che noi stiamo svolgendo nelle segreterie e nello stesso tempo anche che vengono soddisfatte le esigenze dei colleghi che stanno chiedendo l'avanzamento di carriera. Fine settimana di lavori per l'AMIO a Scoglitti. Una particolare attenzione è stata rivolta alle vie che saranno interessate dalla processione dalle tavole in onore di San Giuseppe. Inoltre sono stati posti al centro dell'attenzione i lungomari di Cammarana e della Lanterna, che a causa del maltempo e delle intemperie, che imperversano durante quasi tutto l'anno, risultavano invasi dalla sabbia marina. E adesso cambiamo decisamente argomento. Oggi, come sapete, il 19 marzo è la festa delle papà. Questa data che coincide in Italia con la festa di San Giuseppe, è infatti dedicata alla paternità e al servizio. Auguri a tutti i papà, oggi 19 marzo è infatti la loro festa. Una data importante dedicata a chi, talvolta con mano rigida, talvolta con tante carezze e spesso con entrambe le cose, è da sempre considerato il capo famiglia per eccellenza. E se la mamma è l'angelo del focolare domestico, il papà ne è certamente il protettore indiscusso. Quella di oggi è una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo, anche se in date diverse, perché la festa del papà è una festività civile. In Italia la paternità coincide con la celebrazione religiosa di San Giuseppe, da molti considerato il papà per antonomasia. In America, invece, è festeggiata a giugno o a luglio, mentre nei paesi scandinavi si celebra a novembre. La festa del papà nasce nei primi decenni del XX secolo. La prima volta che fu festeggiata sembra essere il 5 luglio del 1908, a Fermoni, West Virginia, presso la chiesa metodista locale, mentre fu una certa signora Dodd, la prima persona a richiedere l'ufficializzazione della festa in onore del suo papà. Ma ritornando al nostro paese, come detto, oggi è la festa di San Giuseppe, esemplare del padre del marito devoto, ma anche protettore nella tradizione popolare degli orfani, delle giovani nubili e dei più sfortunati. Proprio per questo, in alcune parti della Sicilia, il 19 marzo è tradizione imitare i poveri a pranzo. In altre aree, questa ricorrenza, invece, coincide con la festa di fine inverno. Come riti propiziatori, si brucia l'incolto sui campi da lavorare, sulle piazze si accendono palò da superare con un balzo. E se la crisi di oggi, i sacrifici che bisogna affrontare, le difficoltà nell'impartire una corretta educazione, le preoccupazioni per un futuro che diventa sempre più incerto, nella quotidianità sono delle nubi che all'orizzonte minacciano di offuscare il sereno. Oggi, in questa bella giornata di inizio primavera, il sole risplende solo per voi, cari papà. Terzo appuntamento ieri con l'Eco Domenica, organizzata dall'Associazione Chiratte di Vittoria. Centinaia di visitatori locali e turisti provenienti da fuori provincia, che si sono dati appuntamento al Parco Serra San Bartolo, a pochi chilometri dal centro città. Hanno partecipato alla manifestazione anche l'Associazione Amici della Celiachia e il Circolo Lega Ambiente di Vittoria, nonché espositori con stand dedicati all'oggettistica artigianale, ai bonsai e al giardinaggio. Il quarto incontro con i sapori e le tradizioni della Domenica Ecologica si terrà il primo aprile. E intanto, chi vorrà acquistare prodotti biologici a chilometro zero potrà andare nella parrocchia di San Domenico Savio a Vittoria. Domani, infatti, il gruppo di acquisto solidale sarà presente in parrocchia dalle 16.30 alle 19.30, con i prodotti, fra i quali pane di casa e uova di galline ruspanti. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Il Ragusa è riuscito a vincere ieri contro il Messina, lo scontro diretto per il salto di categoria. Sorride anche il Vittoria, sconfitte invece Comiso e Modica. Vediamo. Il Ragusa vince la partita più attesa della stagione e ipoteca la promozione in Serie D. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, gli azzurri hanno sconfitto una zero in Messina ed hanno allungato adesso a più cinque sui diretti inseguitori. Dopo un primo tempo equilibrato, dove comunque il Ragusa ha fatto la partita, nel secondo tempo, dopo due giri di lancette, Sisale ha portato in vantaggio i padroni di casa con un tiro da fuori aria, che si è inzaccato nel 7. Subito dopo il gol, il Messina ha provato a reagire, provando negli ultimi minuti il tutto per tutto, ma i padroni di casa sono riusciti a resistere e al fischio finale dell'arbitro è stato festa grande. Sconfitte in casa il Comiso dal Real Avola, risultato finale 3-1 per gli ospiti, un'occasione persa per i Verdi Arancio, per staccarsi definitivamente dalla zona play-out. Successo è invece per il Vittoria, che ha vinto in trasferta contro l'Atletico Catania per 2-1. I biancorossi, che oramai si trovano in una posizione tranquilla nei piani alti della classifica, hanno giocato contro una squadra che invece aveva bisogno di punti salvezza. Sconfitta per il Modica, che è stato beffato dal Taormina 10 minuti dal termine. I padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato, vincendo per 2-1. Un'occasione sprecata per il Rosso-Blu, che adesso sono rientrati nella lotta per non retrocedere. A portare in vantaggio il Modica ci aveva pensato Sella al 29esimo. Nel secondo tempo sono arrivati i gol del Taormina. In classifica, come detto, Ragusa prima a 72 punti a più 5 dal Messina, Vittoria quarto a 43, Commiso decimo a 32 punti, a più 10 dalla terza ultima, e Modica a 31. Si è svolta ieri nella Sala Conferenze dell'Avis di Vittoria la 33esima Assemblea Provinciale degli Associati Avis di Ragusa. I 121 delegati e rappresentanza di oltre 20.000 soci hanno approvato la relazione del Consiglio Direttivo svolta dal Presidente Salvatore Poedomani e di bilanci consuntivo del 2011 e preventivo 2012. La relazione del Direttore Sanitario Giovanni Garozzo ha evidenziato anche quest'anno l'aumento del numero delle donazioni, 31.536, un incremento dell'1,5% rispetto al 2010. E in chiusura del nostro telegiornale, vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21, andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti conne. Oggi incontreremo Daniele Barrano, capogruppo di Un Nuovo Inizio al Consiglio Comunale di Vittoria con il quale approfondiremo diverse tematiche della politica ipparina. È tutto per questa edizione. Io faccio gli auguri a tutti coloro che oggi fanno l'onomastico e a tutti i papà. Continuate a seguirci sul nostro sito all'indirizzo www.frittivuola.it. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie.